Ultimi giorni di campagna elettorale e caccia spietata nei confronti degli indecisi. I candidati alla presidenza della Regione, Agostino Di Giacomo, Casa Pound, Andrea Greco, Movimento 5 Stelle, Donato Toma, centrodestra e Carlo Veneziale, centrosinistra, cercano consensi per lo sprint finale. Una campagna elettorale per alcuni aspetti atipica che spesso ha snobbato il tema relativo al rapporto della Regione con l'Europa. Su questo punta invece il candidato del centrodestra, Donato Toma. In realtà l'Europa non è un luogo dove ci si va a fare i selfie, dove si vanno a fare le gite scolastiche. L'Europa è un luogo complesso, è un luogo dove se tu porti programmi concreti e realizzabili riesci a ottenere risorse da investire sul territorio. I nostri principali competitor nel loro programma di 10 punti nulla dicono circa l'Europa. E' per questo che ciò ci fa intendere che non si ha una conoscenza profonda di quelle che sono le direzioni generali, di quelle che sono le problematiche, di come si fa a redigere un progetto, di come si fa a dare a questo progetto i costi e a capire quali saranno i benefici, di come si fa a portare a casa i risultati di una visita in Europa. Cosa può fare l'Europa per una piccola Regione come il Molise? Considerando che il bilancio regionale non ha in questo momento risorse spendibili sul territorio, l'Europa per la nostra piccola Regione può fare tantissimo, ci può dare le risorse, anzi ci deve dare le risorse. Noi abbiamo bisogno di risorse per creare lavoro, lavoro è la parola d'ordine. Anche il candidato del Movimento 5 Stelle Andrea Greco guarda all'Europa ma punta dritto sulle politiche sociali e promette di assegnare risorse certe per mettere in sicurezza il sistema del welfare ripristinando i servizi ridotti o sospesi attraverso un adeguato finanziamento del fondo per la non autosufficienza al fine di ampliare la platea dei beneficiari. In tale contesto, scrive in una nota Andrea Greco, si colloca anche il reddito di cittadinanza la cui posta in bilancio deve essere aumentata agganciando anche alcune misure del fondo sociale europeo.